Il trattenimento consiste in un lavoro di prevenzione generale per i gruppi muscolari e poi un lavoro tecnico con il mister e un lavoro aerobico di condizionamento organico. Il primo giorno è importante per una prima riscoperta del proprio corpo e per cominciare il lavoro aerobico di base. E qual è la progettazione che va a fare l'equipo? La progettazione è migliorare un po' il volume di lavoro e l'intensità un po' a la fine della settimana. Grazie. 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 Grazie.